Che schifo, mi ha babbavata, mi ha babbavata tutta, mi ha babbavata tutta, vieni per dentro. Luciano dove sei? Aia, mi fanno il solletico, sta qua il mangiare, sta qua, vieni, vieni, aia, quello è quello che mi fa male, aia, e che fai? Ti sei mangiato tutto? Questa stava a Sydney, te lo ricordi meglio a Sydney? Oddio! Guarda che bello questa carne, questo cigno nero, e che sarà? Allora, è vero, aspetta, sembra come un topone di fogna, ma non lo è, vi posso assicurare, questo non è lo posso, no, 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 gli posso, sono tipo, sono più alti, più magri, sì. Guarda quello, guarda, lui c'ha, sembra un cavalletto, un cavallo. Sbariglia dai, sbariglia, mi sa che hai ragione. Sì, sì, è un osso quello, chissà di chi era, dell'ultimo turista che... L'ultimo dito di, guarda, guarda, dito un po' grande.